UaV a disposizione UaV di disturbo in attesa di ordini UaV in arrivo HZ-XD alleato in arrivo in attesa di ordine Un'attività elettronica attiva Perimetro stabilito, quota 10.000 piedi Al UaV resta a metà Perimetro stabilito, quota 10.000 piedi UaV in allontanamento UaV di disturbo pronto L'UaV di disturbo deve rientrare alla base All'UaV resta a metà serbatoio Steso UaV in allontanamento Nave Raps in arrivo HZ-XD alleato in attesa di ordini Liquidatore neutral Assassino a terra HZ-XD alleato in attesa di ordini Fate partire Abbiamo perso il set Controvisore lo isenzione In atto Controvisore il termine in atto UaV pronto Autonomia C-UaV al 50% Autonomia C-UaV al 50% HZ-XD alleato Eliminatore ucciso Grazie di tutto UaV di disturbo HZ-XD alleato Atera a disposizione Drone satelliti Sotto controllo alleato Assente di sangue H.C. X.D. alleato. Abbiamo perso il drone satellite. U.A. V.C. Nervino. Vedete il giro? U.A. V.C. Nostro portatore del satellite è a prendere il satellite. Abbiamo il satellite.